Dopo l'ultimo video in cui Fishball andò a sputtanare Taxi B per aver minacciato il suo finanziato nuovo con una pistola Taxi si è finalmente espresso, pubblicando una serie di stories per andare un po' a contraddire quello che ha detto lei Infatti ne ha postata una con Drafgold, come a far vedere che in realtà lui non ha litigato con tutta la scena italiana Una che dove conta i soldi e mostra un Rolex se fosse originale effettivamente abbastanza costoso Dato che Fishball ha detto che fondamentalmente lui non ha un euro E l'ultima dove dice che lui non vuole stare in mezzo ai gossip e non gliene frega un cazzo Vi lascio filmati, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Gigi compare ma... Un luxury car Figa E' il tempo è tu che parli ma non capisco Sempre fatto facca la gente